Ha superato il 1.18.800 il numero delle persone che nelle Marche hanno completato il ciclo vaccinale e dallo scorso 16 ottobre sono partite anche per gli over 60, le prenotazioni per la terza dose. Le modalità sono sempre le stesse, mediante il sito dedicato, contattando il numero verde o con gli altri sistemi attivati da poste italiane, ad esempio tramite portalettere. Ad oggi, a livello regionale, ne sono state somministrate oltre 13.000, ma per capirne di più ne abbiamo parlato con il dottor Augusto Liverani, direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione delle Malattie Infettive dell'Asurare Vassa 1. Dottore, esattamente in che cosa consiste la terza dose? Che cos'è? Dunque, possiamo dire che la terza dose si distingue in due tipi fondamentali. Un primo tipo è rappresentato dalla cosiddetta dose addizionale, che non è altro che una dose aggiuntiva che serve al completamento del ciclo primario in soggetti immunocompromissi e trapiantati. Può essere fatta con uno o qualsiasi dei due vaccini RNA, Pfizer o Moderna, e deve essere somministrata ad una distanza di almeno 28 giorni dal termine del ciclo primario. Che cos'è la dose booster? Sì, il secondo tipo di terza dose, possiamo dire la dose booster o dose di richiamo, è una dose che deve essere somministrata ad almeno 6 mesi di distanza dal termine del ciclo primario e secondo le attuali raccomandazioni deve essere fatta soltanto con il vaccino di tipo Pfizer. Il Ministero e la Regione hanno individuato le categorie per le quali è raccomandata la dose booster di richiamo, che sono gli ultraottantenni, gli ospiti e il personale delle strutture residenziali, gli operatori sanitari, altri soggetti che per condizioni hanno una particolare fragilità e gli over 60. Oltre all'avvio della terza dose anti-covid è scattata anche la profilassi contro l'influenza stagionale, secondo le indicazioni fornite dalla Regione. Questo vaccino viene somministrato, su base volontaria, alle persone con età pari o superiore a 65 anni, con particolare riferimento agli over 75. Dai primi di novembre poi il vaccino sarà disponibile per tutte le altre categorie, i residenti di strutture per anziani e lungodegenza, le persone ad alto rischio di complicanze o di ricoveri ospedalieri correlate all'influenza. La vaccinazione è consigliata anche per i familiari e i contatti di coloro che sono ad alto rischio di complicanze, per gli addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo ed altre categorie di lavoratori, compresi gli operatori sanitari. E perché è importante vaccinarsi anche contro l'influenza? L'influenza è una patologia che ha un grosso impatto in sanità pubblica e ha dei sintomi molto simili a quelli del covid, quindi vaccinarsi contro l'influenza ha un duplice scopo. Innanzitutto quello di poter aiutare a discriminare, aiutare nella diagnosi differenziale tra le tue patologie, in secondo luogo evita che in alcuni soggetti particolarmente vulnerabili ci possa essere una esposizione a entrambi i virus con conseguenze cliniche piuttosto importanti. Nella stessa seduta può essere somministrato il vaccino anti-covid, ma anche quello contro l'influenza. Ci sono delle controindicazioni? No, il vaccino covid e il vaccino dell'influenza possono essere cosomministrati e possono essere somministrati a qualsiasi distanza l'una dall'altra. Grazie. Grazie.